25 maggio 2023 a Scivoro per Fiorello. Il direttore di Viva Rai 2 è inciampato su una gaff con Angelina Mango, vincitrice della categoria Canto di Amico 22. Per l'occasione la figlia dell'artista ben noto ha suonato con la canzone We Think We Think a riguardo domani. Per accompagnarla il corpo del programma Fiorello. Una volta che la parentesi cantante è finita, il comico ha gettato l'ospite imbarazzato. Il nome della madre di Angelina, Laura Valente, aveva torto. In effetti Fiorello disse salutiamo sua madre Caterina.Angelina non faceva finta nulla tirando dritto, mentre lo starman disse di aver apprezzato così tanto il giovane artista e ne approfittava anche per mandare un abbraccio a Maria De Filippi, dicendo a volte dentro la mattina ci guarda perché si alza presto con tutto ciò che deve pensare. L'amore è ancora fatto, lì. Fiorello e la rivelazione della luce rossa su sua moglie solo il giorno dopo Fiorello si rese conto dello stupore e andò direttamente alle scuse scusa per la gaffetta. Cosa vuoi fare? La vecchiaia a volte bussa. Un gesto non è passato inosservato dai numerosi seguaci del cantante e di chi è stato accolto con simpatia. Tutto, tuttavia, nessuno ha escluso, si sono lasciati andare ad alcune battute verso il direttore.